Una delle peculiarità sicuramente delle auto elettriche rispetto alle auto a benzina ragazzi è che bisogna portarsi dietro i cavi di ricarica questa è forse una delle note negative per quanto riguarda le auto elettriche cioè doversi preoccupare di avere sempre qualcosa dietro che ci permetta la ricarica è sempre vero però che comunque in ogni caso abbiamo l'accesso ai fast charger per chi è dotato della porta di ricarica CCS2 Combo infatti non dovete preoccuparvi di avere un cavo ma nelle colonnine pubbliche, quelle un po' più lente che arrivano fino a 11 kilowatt a volte 22 insomma per la stragrande maggioranza delle colonnine che a volte diciamosi la verità sono pure gratuite quindi fa piacere utilizzarle bisogna portarsi dietro un cavo di ricarica e poi se si va in montagna, se si va in qualche altro posto insomma in una location dove non sempre troviamo la stazione o un stallo di ricarica, una colonnina, qualcosa che ci permetta di ricaricare beh, dobbiamo preoccuparci anche di quella cosa perché magari sì, l'hotel non ha la colonnina però c'ha una presa di ricarica, una spina asciucco, c'ha una presa industriale blu c'ha qualcosa che potrebbe comunque permetterci di ricaricare se non avete un'auto elettrica ve ne accorgerete appena ci fate l'occhio troverete prese blu, industriali, rosse eccetera eccetera un po' ovunque, in ogni caso comunque dovreste portarvi dietro un cavo di ricarica che vi permetta di ricaricare alla spina normale uno che vi permetta di ricaricare alla spina industriale uno che vi permetta di ricaricare alle colonnine senza il cavo insomma diventa un po' un macello in questo canale io vi ho fatto già vedere, vi ho portato già un esempio di un cavo di ricarica che vi permette appunto la ricarica su vari posti quindi ci sono degli adattatori che vengono collegati oggi vi porto l'esempio del Juice Booster un altro cavo che secondo me è molto interessante e che devo ancora aprire e lo facciamo con voi eccolo qua ora vi sistemo la telecamera che così vedete anche voi eccolo qua ragazzi siamo davanti alla valigetta che vi viene fornita da Juice Technologies questa è la valigetta che mi è stata mandata a titolo gratuito ma attenzione tutto quello che dirò in questo video è quello che effettivamente penso non c'è molto da dire, francamente è una valigetta fatta molto bene ecco dietro, ve lo faccio vedere dietro da questa parte ci sono anche dei piccoli velcri che sono perfetti magari per andarsi ad attaccare e fissare sulla parte diciamo bassa della vostra vettura in modo che non vada in giro ma vi garantisco che il peso specifico di questa cosa comunque dovrebbe precluderne la come dire la mobilità durante il vostro viaggio andiamo ad aprire e scoprire insieme perché questo cavo è molto particolare allora, un po' di cose sono andate fuori posto comunque abbiamo il manuale di istruzioni che noi ovviamente non andiamo a leggere perché noi siamo bravissimi scherzo, leggeteli sempre primo adattatore poi li vediamo meglio secondo adattatore terzo adattatore quarto adattatore quinto adattatore già avete capito no? questo è il kit italiano sul sito internet potete acquistare il kit italiano che comprende questi adattatori tranne uno ma poi ve lo faccio vedere perché l'ho richiesto io specificatamente per farvelo vedere e sicuramente vi piacerà lo vediamo dopo partiamo con il dire che me lo ricordavo più grosso non so se hanno fatto delle migliorie io questo l'avevo già provato meglio l'avevo già visto da un ragazzo che ha la supercharger me lo fece vedere e me lo ricordavo molto ma molto più pesante se non altro da questa parte ovviamente troviamo il connettore ve lo faccio vedere per quanto riguarda le auto elettriche sembra fatto molto bene eccolo qui il classico type 2 da poter attaccare alla vostra vettura con un comodissimo tappo per evitare che ci entri lo sporco quando avete finito l'utilizzo e questo è il famoso bellissimo connettore proprietario di Juiz Technologies che serve poi per andarci ad attaccare tutti i vari connettori che adesso vi faccio vedere prima di andare a vedere i connettori questo Juiz Booster ha anche delle funzionalità al suo interno che permettono appunto tramite la pressione di questo bottone la selezione della velocità di ricarica che è soprattutto molto utile quando non avete un'auto come per esempio lo Tesla che vi permette di selezionare la velocità direttamente tramite il pannello display che avete all'interno della vettura quindi se avete una vettura un'auto elettrica che non vi permette di selezionare la velocità di ricarica l'amperaggio con cui voi volete assorbire dalla vostra contattore di casa questo lo fa perché avete la possibilità di partire dal 6 per arrivare fino a 32 Ampere ovviamente in monofase anzi in trifase perché questo arriva fino a 22 KW in trifase andiamo quindi a sviscerare vari cavi che arrivano con il kit italiano andiamo anche per questo caso a toglierci il pluriball qui mi sono dimenticato un pezzo ah sì il tappino ecco tutti quanti i cavi anzi gli adattatori hanno un tappino per evitare che ci entri dentro polvere cose di questo tipo e questo mi fa ben sperare mi fa ben capire che effettivamente Giust Technologies è molto ben curata sotto questo punto di vista intanto che parlo sto guardando le specifiche del cavo no questa è la 16 Ampere trifase un po' più rara da trovare questa però in ogni caso può sempre tornare utile questa invece è la sua sorella maggiore perché anche qui ho lasciato dentro il tappo andiamo ad aprirlo questa è la 32 Ampere trifase Legacy 22 KW attenzione questo qui è in grado di assorbire 22 KW ma ovviamente dall'altra parte da dove l'attaccate deve esserci 22 KW e la vostra auto deve sopportare i 22 KW non tutte le auto lo fanno per esempio un Model 3 Model Y e praticamente tutte le ultime Tesla non arrivano a 22 KW quindi questo potrebbe sì esservi utile perché se trovate questa presa altrimenti non caricate se la vostra auto non arriva a 22 comunque sarete in grado di caricare fino anche a 11 per esempio quindi comunque torna utile nel quel caso abbiate per esempio dei posti dove effettivamente ci sono queste prese industriali a trifase 32 KW questo è sicuramente il cavo che per l'Italia potrebbe essere quello più interessante abbiamo una presa italiana in linea classica tripoli con la terra centrale questa è in grado di ricarica fino a 13 Ampere ragazzi e la cosa interessante è che tutti sicuramente ve lo state già domandando cioè Andrea questa presa qui non è fatta per ricaricare per tempi lunghi è vero questo è un cavo però per la ricarica anche in mobilità in realtà c'è molta gente che lo utilizza anche per andare a ricaricare come dire in tutti i giorni ecco a casa comunque in ogni caso all'interno di questa spina è presente un sensore di temperatura in grado di rilevare se per qualche motivo ci sia un surriscaldamento dell'impianto a livello vicino diciamo di questa presa in modo da andarne a limitare poi la velocità di ricarica per evitarvi appunto di fonderi cavi oppure rovinare il vostro impianto elettrico di suo interno ha già un differenziale tipo B se non ricordo male quindi tecnicamente siete anche a posto per quanto riguarda la vostra ricarica domestica questo è il tappino di cui vi parlavo che in tutti gli altri casi mi si è staccato come vedete l'attacco è tipo a baionetta ma adesso ve lo faccio vedere l'ultimo cavo anzi il penultimo cavo più frequente non più interessante che trovate qui in Italia è della 16A monofase blu industriale eccolo qui me l'avete vista anche da me eccolo qui questa la trovate molto molto più spesso questa è in grado di ricaricare fino a 16A quindi 3,6kW di potenza non è male questo soprattutto perché se ne trovano veramente tante di queste prese all'interno dei nostri cantieri magari anche in alcuni ristoranti si possono trovare quelle 16A andiamo a vedere prima di farvi il più bel cavo secondo me che rendono veramente interessante questo juice booster l'attacco quindi tocchiamo togliamo e proviamo ad attaccarlo a posto ragazzi questa roba qui non si staccherà mai l'attacco è veramente molto facile e anche il rilascio è veramente semplicissimo si trova la sede lui fa il click si trova subito l'aggancio senza grossi problemi non slitta non ruota è fatto veramente molto bene questo cavo devo dire la verità e la sezione di questo che fa parte diciamo del cavo vero e proprio ovviamente questa sezione è commisurata alla presa ma questa sezione qui è veramente mi dà speranza che il cavo è fatto molto molto bene vediamo se riesco a leggerlo 6 mm quadri sono 3 cavi anzi 5 cavi da 6 mm quadri quindi insomma sono dei cavi dei signori cavi ecco diciamoci la verità quindi attacco baionetta proprietario di diciamo di Juiz fatto molto molto bene devo dire la verità e attenzione lo dulcis in fondo questo è il cavo più faico secondo me perché con questo cavo allora il Juiz booster diventa un tutt'uno con la vostra macchina perché normalmente cosa succede? succede che si trovano anche altri competitor di Juiz che fanno la stessa identica cosa quindi hanno i vari datatori come questi per esempio però poi per la ricarica alle colonnine serve il classico Mannex Blue quello che dà in dotazione Tesla lo dà in dotazione praticamente tutti i produttori di auto elettriche che si possano rispettare ma questo cavo qui è una novità perché questo cavo qui è il cavo per la ricarica alle colonnine eccolo qui quindi questo significa che se io faccio quest'operazione adesso non trovo più eccolo qua se io faccio quest'operazione eccolo qua devo trovare semplicemente l'incastro se io faccio quest'operazione ho in tutt'uno questo cavo mi può ricaricare alle colonnine mi può ricaricare a casa mi può fare un po' da wallbox senza troppe pretese ma insomma mi può fare da wallbox e secondo me questa cosa è veramente veramente interessante per chi soprattutto non ha molto spazio in auto e vuole avere un cavo che effettivamente gli possa fare di tutto bella anche questa cinghia andiamo a provare ad accenderlo perché sono curioso di accenderlo seppure con uno degli adattatori più semplici che è questo qui non metterò la macchina in ricarica perché non riesco a farvi delle riprese da quella parte ma l'avevo già provato e ho visto che funziona quindi insomma e poi sono anni che lo fanno allora cavo semplice andiamo per la magia delle magie ad attaccarlo alla presa di corrente che ho qui vicino ecco ragazzi quindi semplicemente guardate è molto molto semplice io clicco automaticamente mi ha portato a 6 ampere questa spina lui riconosce automaticamente che è in grado di assorbire al massimo 8 ampere in questa configurazione ma ovviamente attaccandoci la spina 32 ampere trifase 16 ampere trifase eccetera eccetera sarete in grado di andare a selezionare quello che vi è più congeniale e francamente non c'è molto da spiegare è veramente molto semplice molto intuitivo c'è solo un bottone clicco due volte mi switcha attendi si attende che arrivi il verde fisso e il gioco è fatto arriva e ricarica senza grossi problemi devo dire la verità che questo cavone è veramente molto stabile l'unico ecco l'unico difetto che li posso trovare è la sua pesantezza però francamente se si vuole un cavo di buona fattura comunque la sezione dei cavi deve essere adeguata non sognatevi di comprare dei cavi che vi promettono ricariche da 32 ampere in trifase quindi 22 kilowatt eccetera eccetera che poi guardatevi bene e ci hanno un cavetto che è così perché oltre a essere pericoloso potreste anche rovinare il vostro impianto elettrico qualcosa nella macchina la vedo un po' difficile ma comunque sicuramente potrebbero essere soldi buttati non solo per il cavo ma anche per altre spese non previste quindi sicuramente la grossezza dei cavi è molto molto importante e impattante per quanto riguarda il suo peso però francamente io lo tengo tranquillamente in mano senza grossi problemi quindi una volta posizionato non avete sinceramente alcun tipo di problematica ecco un altro difettino che gli voglio trovare il juice booster è questa parte qui ed è molto la parte più pesante diciamo del cavo quindi questo è la lunghezza del cavo mi sposto un po' inietro per farvela apprezzare soprattutto per questa presa che non ha diciamo un sistema di serraggio mentre le altre prese generalmente come potete vedere per esempio questa qui generalmente c'ha già dall'altro lato quindi dove vi attaccate un sistema di serraggio che la va a fissare questa qui no perché non è stata pensata diciamo per questa cosa non questa ma quella che usiamo tutti i giorni a casa ergo per cui se voi volete attaccare questa qui non potete metterlo troppo distante questo questo perché vi faccio un esempio io voglio ho una presa alta in garage la metto qui andrò a sforzare non solo elettricamente ma anche meccanicamente la presa al muro e potrebbe anche sfilarsi mi è successo Fatalita prima qui non mi era successo l'altra volta ma il bello della diretta mi è già successo e quindi mi sembra giusto dirvelo ma comunque la misura io credo che sia almeno un metro un metro e venti abbondante quindi non dovreste avere problemi per il resto io ragazzi sinceramente questo cavo non non ci trovo molti difetti se non che effettivamente il suo costo non è proprio diciamo accessibile perché stiamo parlando di circa un migliaio di euro qui sopra trovate scritto quanto esattamente costa il kit italiano che voi comunque potete acquistare anche in separati separati parti perché volendo potete acquistare il master chiamiamolo il master e poi potete acquistare l'adattatore 16A per monofase più quello 3D trifase più quello magari per la Type 2 e magari rispermette qualcosina il kit italiano ha un costo abbastanza importante volendo ci sono tutti i kit per tutte quante le nazioni ovviamente in Germania trovate l'asciucco in Norvegia trovate la spina norvegese eccetera 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 è sicuramente un cavo interessante e importante il prezzo come dicevamo è anch'esso importante vista anche la sua manifattura mi sembra fatto veramente molto bene io purtroppo non sono riuscito a provarlo soprattutto la 32A non sono riuscito a provarla perché non ho trovato nessuno però tutti gli altri cavi hanno funzionato sempre subito al primo colpo e quindi di questo mi trovo non posso più parlarne bene in ogni caso qui sotto trovate in sovraimpressione qui come alle televendite un bel codice sconto che ho rimediato insieme ai ragazzi di Juiz per questo Juiz Booster qualora voi foste interessati ad acquisto di questo cavo che io consiglio francamente in questa configurazione cioè questa perché questa si trova molto spesso poi consiglio se volete un solo cavo e non volete il Mennekes per esempio potete risparmiare i 100-150 euro abbondanti per un cavo buono Mennekes se non vi viene fornito l'auto e farvi dare questo cavo che è di fatto quello lì per le colonie Type 2 e in più se volete quello che c'è attaccato cioè quello lì della spina italiana in linea con i tre poli in linea secondo me con questi tre cavi qui andate più o meno dappertutto anche perché questo qui è il classico carichino per il camper parliamoci chiaro quindi i campeggi li trovate un po' ovunque ergo per cui in mobilità secondo me questo è un cavo da tenere sotto mano perché salva spazio mettete dentro tutto quanto bello ordinato all'interno della sua valigetta che viene data comunque fornita all'interno con il kit non all'interno del kit e quindi siete belli che a posto una raccomandazione mi sembra doverosa farla prima che succeda qualcosa ovviamente all'interno trovate tutte le informazioni c'è anche un manuale molto esaustivo che io francamente non ho letto però volendo ci sono tutte le lingue di questo mondo che vi spiegano vita morte miracoli di come funziona ma se dovete leggere qualcosa leggete questo perché la cosa più importante è ovviamente ragazzi mentre siete in ricarica non fate questa cosa per staccare la ricarica perché ovviamente questa cosa potrebbe essere pericolosa parliamoci chiaro il connettore è stato studiato per evitare che voi vi si fulminiate immagino però in ogni caso è meglio sempre terminare la ricarica dall'interno della vostra vettura per poi uscire e andare a disassembrare il cavo qualora ne fosse necessario io questo lo vedo bene sinceramente come ho sempre lo stesso cavo attaccato e senza grossi problemi andate sempre ad utilizzare più o meno le stesse ricariche perché bene o male io ho visto che nel mio caso la ricarica è abitudinaria quindi una volta che trovo la mia colonina ho sempre quello stesso cavo attaccato e ho finito quindi per concludere questo video ragazzi io dico che questo è un prodotto molto molto interessante se riuscissero a miniaturizzare questo componente ma francamente io credo che questo sia il minore spazio possibile per adesso e occupabile per tutta la tecnologia che c'è al suo interno e soprattutto per i sistemi di sicurezza che sono al suo interno che permettono poi lo switch di varie velocità eccetera eccetera sarebbe veramente un cavo eccezionale già così io mi sento di consigliarlo per chi vuole comunque è vero spendere un po' di soldini perché il costo è importante come abbiamo già spiegato più volte ma vuole un singolo cavo che faccia più o meno tutto quanto per andare anche in mobilità e fare un viaggio come per esempio io vi feci per andare a Caponord e con questo ragazzi io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto e che il prodotto magari possa interessarvi qua sotto trovate il codice sconto per poter accedere alla scontistica che mi è stata riservata per questo video o per questo prodotto fatemi sapere cosa ne pensate e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao